Il sindaco di Roma, Ciocetti, ha inaugurato la più originale delle mostre di pittura, incontro col turista ispirato alle Olimpiadi di Roma e organizzato dal Centro Femminile Artisti e Professionisti. Interessante il lavoro di Omiccioli, del pittore Isola, i quadri ispirati agli sport e agli atleti, ai giochi di Roma, intesi nella più ampia estensione del termine. Ha stratto il quadro di Natalia Roberti dal titolo Il Sacro Fuoco di Olimpia, esposto in via Veneto.